Quando fai matematica a scuola, all'elementari Gino, 2 più 2? 4 3 per 3? 9 2 per 2? 33 Ma come 33? Ma come no, 2 per 2 è 33 Gino, fa 4 Oh, bravo Gheri, e 2 diviso 2? Eh, mo' non esageriamo, non lo so, mica son genio Alle medie Gheri, quanto è l'area del triangolo? Oh, ma che è sta matematica? Già i numeri sono difficili, ma ho pure le figure, ma stiamo scherzando? Vabbè, Edo I do speak Italian Sì, ciao Ugo Quello dorme Gino L'area del triangolo è base per altezza diviso 2 Bravo E 2 per 2? Non lo so, quanto fa 2 per 2? Alle superiori Quanto fa x più x alla seconda più 2? Sì, vabbè, ciao, ne vado a casa io Non hablo italiano, por favor, io chiedo andare via Mamma Siete tutte delle capre x uguale a meno 2 e x uguale a 1 Ma io sono genio Bravo Gino, ma sei bravissimo, ma quanto fa 2 per 2? Eh, 5 No, fa 4 Grazie a tutti